Il bilancio è sicuramente positivo, abbiamo giocato 5 partite combattute, peccato per la semifinale di ieri, ma noi crediamo di aver fatto tutto quanto era nelle nostre possibilità, abbiamo giocato una partita equilibrata ogni set. Veniva questa finale terzo o quarto posto, a volte le finali terzo posto vengono un po' snobbate, non era il caso di oggi perché ci tenevamo molto a prendere una medaglia, sai un gruppo giovane, una squadra nuova, abbiamo cambiato tanto, quindi sappiamo apprezzare anche questo risultato, credo che l'abbiamo dimostrato anche oggi con l'impegno, ho rivoluzionato un po' la squadra perché volevo cambiare un po' l'inerzia della partita e sono stato fortunato perché chi è entrato ha dato bene, è andato bene, Sole ha giocato bene, ottimo Fedrizi, insomma giocatori ai quali non ho avuto finora tempo di dare molto spazio e mi spiace per Jack che l'ho messo in campo in un momento difficile e non è riuscito a dimostrare quello che Di Buono sta facendo in allenamento, ma verranno delle possibilità anche per lui, quindi godiamoci questo risultato che dedichiamo principalmente a questo gruppetto di tifosi che è venuto fino a qua a sostenerci rappresentando un po' tutta la tifoseria trentina.